neanche il tempo di festeggiare la matematica certezza del mantenimento della categoria che subito la turist deve scendere di nuovo in campo è infatti in programma oggi alle 15 il recupero del match contro la cavese rinviato per le numerose assenze dovute al covid e il bonus sfruttato dalla società corallina per il rinvio la trasferta di cava dei tirreni ha assunto nel frattempo una valenza impensabile fino a poche settimane fa infatti se nel giorno in cui era in programma significava la possibilità di salvarsi ora con i risultati favoribili degli altri campi vale per il raggiungimento dell'undicesimo posto che potrebbe significare ingresso nella griglia dei playoff promozione a patto che la turist sia la migliore dei tre gironi di serie c la società ci crede e confide in un risultato positivo contro la già retrocessa cavese e mantenere così accesa la piccola speranza di superare in classifica la casertana con cui i corallini hanno il vantaggio degli scontri diretti caneo dovrà fare ancora meno di rainone signorelli e ventola a cui si aggiunge tascone alto per squalifica tornano a disposizione romano e persano che quindi potranno dare una mano in più alla squadra fischio d'inizio allo stadio d'abberti alle ore 15